L'idea appunto di avere Nicola con noi oggi era per fare un approfondimento rispetto invece all'uso civico, ma anche al metodo favoloso che hai spiegato benissimo anche ai miei studenti un po' di tempo fa e loro si sono appassionati nel vedere che c'è anche il tentativo appunto di trovare uno strumento che possa dare pluralità alle diverse forme di organizzazione, un po' quello che citavamo nell'introduzione e ti lascio 20 minuti e grazie. Grazie intanto a tutti voi per l'invito. Io sono molto contento di partecipare per una questione privata, come direbbe Beppe Fenoglio, perché l'amicizia, mi lega un'amicizia con Elena e voglio nominarla perché l'amicizia in ambito accademico e in ambito anche di impegno civile è cosa preziosissima, per cui io sono molto contento di essere qui per la relazione di amicizia e di ricerca che si è staurato in questi anni con Elena e con la sua squadra, vale a dire gli allievi, gli studenti, le altre persone che partecipano al progetto ricerca, coadizione civica. Dunque grazie. Il contributo oggi che volevo dare era appunto provare a mettere l'accento sul senso oggi di avere dispositivi che permettono un sempre più largo, una sempre più larga partecipazione degli abitanti di una comunità nei processi decisionali che riguardano lo spazio pubblico. Perché questo è importante? È importante proprio in questo momento. se la pandemia mette a nudo qualcosa, cioè mette in verità dei processi, è che noi abbiamo un disperato bisogno di spazi pubblici. E la mancanza dello spazio pubblico, della città pubblica, che oggi rende anche difficile la gestione pandemica. Il fatto di dover addomesticare, essere costretti all'ultima razio, cioè segregare nello spazio domestico e nello spazio di produzione migliaia di cittadini, è un problema. Vale a dire che non abbiamo predisposto quello spazio pubblico necessario a creare la città della cura. Ce lo diciamo tante volte, lo scriviamo, ma la città della cura è un'infrastruttura non passiva rispetto all'azione dei cittadini, ma è un'infrastruttura che accompagna, è la stessa infrastruttura che è in qualche modo partecipativa, è attiva nel processo di cittadinanza. Perché la cittadinanza non è data una volta per tutte, la cittadinanza stessa è un processo. Io amo molto di più la parola abitante che cittadino, perché l'abitante ha che fare immediatamente con una parola prossima all'ambiente. È una parola che richiama lo spazio dentro cui io muovo la mia azione di relazione, cioè l'abitare chiama una relazione. Ora le relazioni hanno bisogno di spazio e hanno bisogno di spazio pubblico, hanno bisogno di uno spazio pubblico in tutte le sue strutture e infrastrutture. Prima veniva citata gli ospedali, venivano citate le scuole, venivano citati i trasporti pubblici. Tutte queste cose oggi si rendono necessarie. Perché i beni comuni in questa vicenda sono fondamentali? E noi dobbiamo proprio rilanciarli nel momento in cui siamo in una crisi ambientale profondissima. Va ricordato, piccola parentesi, che questa pandemia è dentro la crisi ecologica del pianeta, che non è un destino, non è un dato di fatto improvviso, non c'è nulla di metafisico nella pandemia. La pandemia è il risultato di politiche ambientali devastanti per il pianeta. Per cui noi abbiamo da rifare lo spazio, proprio abbiamo da rifare lo spazio terrestre, dobbiamo saperlo riabitare. Detto ciò, dunque dentro questa crisi in cui siamo stati proiettati tutti, la questione dei beni comuni diventa fondamentale. Allora, prima di andare subito al cuore della questione, cioè agli usi civici e collettivi, io ho bisogno di fare una premessa. E vorrei partire proprio da quello che veniva detto in apertura, dal sindaco e da Annalisa. Annalisa dice una cosa che mi ha sempre convinto tanto. Cosa ha da fare una pubblica amministrazione in questo momento, tra le tante cose? Non affidare, non fare, mettere, Daniela diceva, dispositivi autoritativi. Annalisa ha usato un'espressione che secondo me è molto chiarificatrice. L'amministrazione deve creare le condizioni. Creare le condizioni è molto più impegnativo che predisporre delle azioni. Questo proprio richiama una natura diversa di concepire la stessa norma, lo stesso atto amministrativo. Un atto amministrativo che predispone un'azione ben diverso da un atto amministrativo che predispone le condizioni perché un'azione possa accadere. E quel predisporre le condizioni, anche qui non avviene quel creare le condizioni. Per esempio, un regolamento crea le condizioni. Noi possiamo pensare un regolamento in due modi diversi. Un regolamento che prevede tutte le azioni. E ci sono tutti i problemi che ha detto Elena. Perché stiamo cercando di mettere una camicia a un processo in continuo divenire. Perché la sentenza citata, la 131, da Daniela spiega come il processo in divenire. Perché quella sentenza lancia una sfida ulteriore all'amministrazione. Immaginatevi un regolamento che invece predispone una volta e per tutte tutte le azioni e le procedure amministrative per. Noi dobbiamo invece pensare a dei regolamenti, questo è l'invito e la riflessione che volevo fare con voi, a dei regolamenti che creano le condizioni perché l'azione civica possa darsi. E dunque questo regolamento deve essere di natura proprio semplice perché deve predisporre quei dispositivi minimi che garantiscono la trasparenza e la pubblicità del processo. Che è questo il punto. Noi abbiamo visto lo spazio pubblico devitalizzato, privatizzato, dal fatto che su di esso ricadono azioni non trasparenti e non pubbliche. Allora come garantire pubblicità e trasparenza che sono tra l'altro tra i capisaldi e la pubblica dell'azione amministrativa? Noi lo possiamo fare in due modi. O formalisticamente, cioè creando un dispositivo che è formalmente inattaccabile. Va bene? Cioè nella produzione normativa è logicamente perfetta. Oppure possiamo fare un'altra cosa. Creare dei processi democratici in cui il dibattito e la razio che si crea intorno a quella decisione sia pubblica quanto più evidente possibile. E questa è l'opzione che ne abbiamo oggi davanti. In questo ci viene in aiuto appunto il citatissimo articolo 118,4 della Costituzione. Io vorrei un attimo sempre fare un esercizio di lettura perché la lettura a volte chiarisce e spiega. Allora l'articolo 118 al comma 4 dice che le regioni, le città metropolitane, lo Stato, le province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini. C'è un testo però che va ben oltre perché chiarisce ed è un testo di qualche mese antecedente a questa norma costituzionale ed è importante. Il testo è il testo unico degli enti locali che risale al 2000, per cui siamo veramente qualche mese prima alla riforma costituzionale dove le competenze tra state e regioni vengono riviste, eccetera, eccetera. E lì viene detto in modo ancora più chiaro e non è un caso che sono istituzioni di prossimità a chiarire la relazione. Perché in quel testo, anche qui faccio, siamo all'articolo 3,5 del testo unico degli enti locali che appunto è la legge numero 267 del 2000. Scusatemi se do i riferimenti, ma è importante per la parte amministrativa e per la parte delle associazioni, dei singoli, ma per tutti noi intesi come comunità di abitanti di una città, avere anche dei riferimenti chiari. Perché questi due riferimenti, costituzionale e legislativo, sono quello che permettono all'amministrazione di agire, che permettono al dirigente sotto la scure della riforma Bassanini di firmare un atto amministrativo che non prevede quello che si prevedeva nel 1942 all'indomani della scrittura del Codice Civile, che è molto molto rigida e non riesce a uscire dalla logica del bando, dell'affidamento, eccetera, eccetera. Allora, questo articolo 3,5 chiarisce la norma costituzionale, anche se è precedente, per cui da punti di vista interpretativo dobbiamo fare uno sforzo retroattivo. E dice, i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso l'attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini. Per cui, attenzione, non solo favoriscono l'autonoma, ma l'azione autonoma dei cittadini, e essa stessa azione amministrativa, perché i comuni, le regioni, le città metropolitane possono svolgere le loro funzioni anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini. Questo, secondo me, potenzia il discorso sulla partecipazione, perché ci dice che l'atto che fanno tante comunità è un atto pubblico, non è un atto privato. Il pubblico non va solamente riferito alle istituzioni, che sono una delle articolazioni dell'azione pubblica, ma noi cittadini, noi abitanti di una comunità, nel fare azione di produzione di spazio pubblico, siamo azione pubblica, siamo istituzione pubblica. Questo, secondo me, è importante, e in questo veramente i lavori di Elena sull'apprendimento istituzionale sono importanti. Io, grazie a lei, ho avuto accesso a questo concetto, no? Come c'è un apprendimento reciproco. Ecco, i dispositivi normativi che permettono questa reciprocità di apprendimento sono il Tuel e la Costituzione, che sono a disposizione delle pubbliche amministrazioni dei cittadini. Prima premessa. Seconda premessa. La definizione dei beni comuni, perché anche qui noi dobbiamo distinguere beni comuni da beni pubblici. Quando dico distinguere, non sto dicendo che sono due cose opposte, e mi spiegherò subito. Quando dico spazio pubblico, faccio riferimento alla Carta dello Spazio Pubblico approvata nel 2013. Altro documento importante per le pubbliche amministrazioni, perché la Carta dello Spazio Pubblico dà una definizione, pubblicato all'Istituto Nazionale di Urbanistica, dà una definizione di spazio pubblico che ci permette di lavorare su una definizione larga. Lì, per esempio, viene detto, all'articolo 7, che gli spazi pubblici sono elemento chiave per il benessere individuale e sociale, che i luoghi della collettività, della vita collettiva, delle comunità, sono in qualche modo fondamento della loro identità. Identità non chiuse, come diceva Rodotà, identità inclusiva, identità che permettono di capire in che direzione andare. Per esempio, nella situazione in cui ci troviamo. E lo spazio pubblico, generalmente, noi lo colleghiamo alla nozione di servizio pubblico. Per esempio, il cosiddetto verde pubblico, parola orribile, scusatemi, ma gli spazi come i boschi o i giardini all'interno delle città, svolgono un servizio pubblico. Per cui la pubblica amministrazione può, attraverso di essi, la scuola, gli ospedali, soddisfare dei bisogni e svolgere dei servizi pubblici. Cosa fanno invece i beni comuni? E qui dobbiamo andare alla definizione della commissione, a una parte della definizione della commissione Rodotà. Perché quella definizione dice sono beni comuni le cose materiali e immateriali che esprimono utilità funzionale all'esercizio dei diritti fondamentali. Vedete la differenza? Svolgono, esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali. Non servono i servizi fondamentali, ma sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali. E questo si lega alle due cose citate prima. Perché il cittadino, l'abitante di una comunità che si attiva su uno spazio per riconoscere bene comune, sta esercitando un diritto direttamente. E questo ha in sé l'accesso diretto della cittadinanza in tutto quello che abbiamo detto, nel pensare collettivamente ai regolamenti, ai dispositivi amministrativi, e dunque i processi partecipativi diventano fondamentali. Che cosa fa ulteriormente la nozione di bene comune? Io non amo, non ho mai amato personalmente l'espressione né pubblico né privato ma comune. Perché questa, anche capendone la razio dell'origine di questa definizione, ma io amo dire in un altro modo, più che pubblico, più che privato, comune. Che significa più che pubblico, più che privato? Significa dire che i beni comuni non sono antagonisti del pubblico e del privato, ma evidenziano la radice ultima della nozione pubblica e privata nel nostro sistema costituzionale. Cioè i beni comuni intensificano la relazione dei beni pubblici e dei beni privati dentro il contesto democratico costituzionale. E lo voglio dire ancora più chiaramente di come ho fatto ora. I beni comuni svelano la radice collettiva, di appartenenza collettiva dei beni pubblici. I beni pubblici sono di appartenenza collettiva al popolo per sovranità. Appartengono al popolo perché il popolo senza beni materiali, senza infrastrutture, non può concretamente mettere in atto nessuna forma di democrazia. Per cui i beni pubblici, intesi in questo modo, sono dispositivo per l'incremento del regime democratico. I beni comuni che si innestano sui beni pubblici cosa fanno? Intensificano questo rapporto, spingono più in profondità la nozione, perché collegano questi beni direttamente alla sfera dei diritti fondamentali. Ma questo è già nella Costituzione. La Costituzione non lo dice chiaramente perché è una Costituzione di grandi vedute, per cui lascia a noi l'atto costituente. Lascia a noi l'atto creativo di immaginare come intensificare quella direzione che viene data. Perché la costituzionalizzazione e lo spazio pubblico di cui Rodotà ci ha parlato, specialmente negli ultimi anni, va in questa direzione. Per cui i beni comuni connessi ai beni pubblici intensificano la relazione del bene pubblico nella sfera democratica e nella sfera dei diritti fondamentali. Ma i beni comuni, lo accennava Danila, fanno anche un'altra cosa relativamente alla sfera dei beni privati. Perché svelano la natura funzionale dei beni privati. Ricordiamolo che nella nostra Costituzione la proprietà privata è tutelata dalla legge in quanto ha lo scopo di svolgere una funzione sociale. E allora anche lì, quando io applico, ad esempio, attraverso un regolamento, l'uso pubblico di uno spazio privato, non sto facendo altro che ricordare che la relazione tra il privato e il pubblico è funzionale all'incremento democratico, alle funzioni sociali, eccetera, eccetera. Questo non è fuori dalla carta costituzionale. Perciò io uso quel più come l'über tedesco, no? È un prefisso che intensifica una relazione. Oltre pubblico, oltre privato, per me significa più che pubblico, più che privato, nella prospettiva dei beni comuni. Detto questo, gli usi civici e collettivi. Qual è il dispositivo centrale degli usi civici e collettivi? Lo dice già la parola. Intanto abbiamo gli usi. Gli usi nel nostro ordinamento sono fonte di diritto. Questo è importantissimo, perché l'uso come fonte del diritto è la traccia di un'antica storia che risale alle prime confische e alle prime recinzioni degli spazi comuni. Risale all'Inghilterra del 1400 e attraversa tutta la storia delle guerre contadine in Europa. L'Italia è ancora un paese con grandi spazi ad uso collettivo in tutte le regioni italiane. Non vi dico la fatica per trovare nella regione campana gli elenchi degli usi civici della regione campania. Ma cosa dice quell'uso? Quell'uso intanto ci dice che alcune azioni fatte dai cittadini, dalle comunità, dagli abitanti, hanno intrinsecamente un valore giuridico. Perché nel nostro ordinamento, seppur in forma subordinata alle leggi e ai regolamenti, gli usi sono fonte del diritto. Questo ce lo dobbiamo ricordare, perché quando noi cominciamo ad utilizzare in modo civico e collettivo un bene, stiamo nello stesso momento mettendo in atto un'azione giuridica che ha valore intrinsecamente giuridico. Ovviamente la sfida è far riconoscere dentro i regolamenti e dentro le leggi, per fortuna gli usi civici sono stati riconosciuti nel 2017, anche se in modo parziale, da una legge nazionale che li mette nel quadro costituzionale, come principio costituzionale, per cui metterle in un regolamento significa che quella città riconosce che alcuni usi stanno producendo diritto. Che cosa significa civico? Civico significa che le comunità, e qui sta il cuore del dispositivo napoletano, per esempio, civico significa che quelle comunità nell'atto di usare il bene sono capaci di autonormazione. Collettivo che cosa significa? Significa che quest'atto di autonormazione deve avere come cuore della sua produzione l'uso non esclusivo del bene. L'accessibilità, l'inclusività, l'imparzialità, la fruibilità del bene deve essere potenzialmente aperta a tutti. Allora cosa fa un regolamento che prevede al suo interno, insieme ai patti di collaborazione, anche gli usi civici e collettivi? Semplicemente dice che laddove c'è una comunità anche molto matura nel autogovernarsi, io apro quel bene, ce ne svelo la sua natura di appartenenza collettiva, esattamente come faccio con un parco pubblico, eccetera. Le regole, attraverso un processo pubblico, a Napoli abbiamo avuto un tavolo di lavoro aperto di tre anni per dire che eravamo all'inizio, oggi si può fare in tempi ragionevoli, perché la maturità è più alta in tutte le comunità locali, il comune, la cittadinanza scrivono insieme le modalità d'uso di quello spazio. Dopodiché il problema non è più, come ci siamo detti altre volte con Elena, chi usa quel bene, ma come si usa quel bene. Diventa centrale nel rapporto tra la norma giuridica e la comunità, non il chi, ma il come. e soprattutto il cosa, in che direzione va l'azione civica. Io su questo mi chiudo perché credo di essere arrivato ai venti minuti che mi erano stati concessi, per cui in estrema sintesi i beni comuni intensificano il rapporto con lo spazio pubblico perché ne svelano la natura collettiva e quando un comune riconosce i beni comuni sta riconoscendo la possibilità ai cittadini di esercitare direttamente i propri diritti fondamentali, non sta dando un, non sta erogando un servizio, sta predisponendo le condizioni perché i cittadini esercitano i loro diritti fondamentali. Questo è fondamentale chiarirlo. Tra i dispositivi, gli usi civici e collettivi sono quel dispositivo che hanno al cuore del proprio essere la capacità autonormativa delle comunità. Da lui, eh? Eh, vabbè, non ho capito. Eh, la capacità autonormativa della, eh, comunità che deve garantire proprio come le antiche tradizioni degli usi civici e collettivi eh, la, l'uso non esclusivo del bene. A Napoli dal duemiladodici questa cosa sta funzionando, non abbiamo un regolamento a Napoli, quando nel duemilatredici il comune, nel duemiladodici il comune stava predisponendo un regolamento per i beni comuni, noi invitammo invece ad approvare una carta dei principi per il governo e la gestione dei beni comuni perché prevedevamo che le forme sarebbero state molto varie. Per cui abbiamo una carta dei principi e poi abbiamo tante dichiarazioni d'uso civico e collettivo che più o meno si somigliano che eh sono acquisite dal comune come eh atto normativo cioè il comune riconosce attraverso delle delibere ehm attraverso delle delibere le dichiarazioni d'uso civico e collettivo che diventano di fatti il modo di governo il modo in cui quelle comunità governano quel bene garantendone sempre e qui il comune l'istituzione si fa garante che quel processo sia aperto plurale eterogeneo e sempre volto all'incremento del regime democratico. Io mi fermo qui poi se ci sono questioni sono eh contento di dialogare con voi. Grazie.